Salve a tutti amici benvenuti e bentornati sul mio canale oggi come avete potuto introdurre dal titolo questa qua è diciamo la seconda puntata del format app utili per fare fotografia ho visto con piacere che la prima puntata vi è piaciuta e quindi ho deciso di farne un'altra soprattutto perché avevo altre due app da consigliarvi che utilizzo e sto utilizzando da tempo e che secondo me possono essere utili le due app di cui parleremo oggi sono la prima la app ufficiale diciamo della Canon quindi il controllo remoto della Canon della macchina dal telefono mentre la seconda app di cui parleremo sarà fotografia proprio un'app che si chiama fotografia e poi vedremo meglio nel dettaglio di che cosa si tratta ma partiamo dall'app della Canon avevo l'app della Canon scaricata sul telefono da non so quanto e non l'ho utilizzata praticamente fino a quest'estate quando mi sono reso conto di averla ancora sul telefono ho detto oh ma usiamola ora con i miei potenti mezzi andrò in sovrimpressione qui e vedrete comparire il telefono qua allora aprendo l'app troviamo in alto la connessione quindi se effettuiamo la connessione wifi ho quella bluetooth andiamo sul scatto remoto con live view e praticamente la macchina ci farà rivedere ecco questo qua ero io prima quando ho registrato la clip praticamente la Canon la macchina ci farà vedere quello che noi stiamo facendo in tempo reale è un po' scattosa eh dipende un po' dalla connessione che utilizzate eccetera comunque potete fare l'autofocus praticamente cliccando o sull'immagine direttamente o su AF e cliccando sul vedete infatti sta facendo l'autofocus poi cliccando sul tasto di scatto scatta guardate che fantastico capolavoro che è venuto fuori naturalmente scatterà in RAW se gli dite di scattare in RAW in JPEG se gli dite di scattare in JPEG e vedrete che la qualità comunque è buona cioè in generale è buona se andiamo su immagini della fotocamera naturalmente ci farà vedere le immagini all'interno della SD che è dentro la macchina da qui possiamo praticamente condividere tranquillamente vedere le informazioni di scatto quindi il tempo, la focale, l'ISO eccetera possiamo cancellarla, possiamo scaricarla la foto, possiamo aggiungerla ai preferiti insomma possiamo farci tante tante belle cosine possiamo inserire le informazioni relative alla posizione dove siamo quando scattiamo la foto eccetera possiamo impostare altre cose della fotocamera tipo la data e l'ora che rifletta l'app del telefono oppure lasciarla sincronizzare dalla macchina direttamente e niente, quindi è abbastanza intuitiva ora, la parte più complessa diciamo di tutto è il sincronizzare il telefono con la macchina perché? perché non è proprio immediatissimo soprattutto a livello di macchina almeno per me non lo è stato l'ho trovato molto utile questa app quando mi capita delle volte di non avere il telecomando di scatto remoto naturalmente come tutte le altre cose wifi e bluetooth più la utilizzate e più la batteria della vostra macchina scenderà velocemente quindi valutate bene quando usarla, come usarla naturalmente se avete tante batterie dietro vi potete permettere di cambiarle varie volte è fatta abbastanza bene però secondo me andrebbero aggiunte delle cose ad esempio controllare il numero di scatti che ha fatto la vostra macchina perché sembra che sia un segreto di stato io non capisco perché Canon non offre un servizio immediato e semplice per controllare quanti scatti ha fatto la propria macchina se qualcuno sa perché io tutte le volte devo chiedere alla NASA per sapere quanti scatti ha fatto la mia macchina e quindi quanta vita ha fatemelo sapere perché io ancora non l'ho concepita questa cosa altra cosa che potrebbero migliorare ma quello non dipende secondo me tanto dall'app ma dipende anche dal tipo di connessione al tipo di antennine e ricezioni che hanno i due dispositivi quindi il telefono e la macchina ovvero lo streaming wifi perché se avete presente lo streaming che c'è fra la GoPro e il vostro telefono scordatevelo perché quello fra la Canon e il vostro telefono è veramente imbarazzante nel senso che se vi va bene vi va quasi a 20 fotogrammi al secondo come streaming ma se come al solito va un po' male vi va a 15-10 fotogrammi al secondo quindi è come se io mi muoversi tutto così capite bene che in una situazione in cui io sono fermo da fare una foto a qualcosa di fermo bene ma quando io sto facendo magari facciamo un esempio ho provato a farci street con la tecnica che dissi nel video della street photography ovvero di tenere la macchina qua e scattare senza che la gente se ne accorgesse perché quando vai a giro con questo trombone giustamente non è che è piccolina e la gente non se ne accorge e vedevo che comunque i tempi di reazione scatto, faccio, vedo, fa è una seconda app di cui vi voglio parlare oggi quest'app l'ho scoperta non mi ricordo dove però mi sembra tramite una pagina facebook non me lo ricordo comunque sia l'ho scoperta tipo un annetto fa ed è un'app molto interessante fotografia o scuola di fotografia non so come la potete trovare allora trovate tutto un elenco di news praticamente aggiornate alla giornata o comunque al periodo quindi trovate tante notizie utili e tante di queste notizie sono quelle che io poi dopo condivido sulla pagina facebook tante volte poi trovate in basso anche i corsi quindi corsi di fotografia in generale corsi di photoshop eccetera ed è una cosa anche questa molto interessante andando avanti troviamo i concorsi concorsi che ancora non ho provato a fare da qua perché non ho ben capito se vanno caricate le foto direttamente dal telefono o le puoi caricare anche dal computer non ho capito comunque come vedete ci sono stati tanti vari concorsi che quasi tutti sono terminati ormai però penso che con l'anno nuovo ne comincino altri poi trovate questa parte qui che è dedicata alle offerte sono tutte offerte più o meno di amazon diciamo tutte relative alla fotografia tante di queste offerte io le ho usate in passato per comprarmi delle cose quindi le vedete divise in last, best e top normalmente e niente questa app mi sembra fatta molto molto bene è interessante e... ah tra l'altro c'è una sezione dedicata agli eventi naturalmente non è una delle più aggiornate non è la top news della fotografia però è fatta bene niente spero che questo video vi sia piaciuto spero vi sia stato utile fatemi sapere con un commento qui sotto se conoscevate queste app se le utilizzavate se me ne volete consigliare voi altre magari da provare e poi dopo fare un video così così vedere se sono da consigliare o meno come sempre vi invito qui sotto a guardare in descrizione trovate tutti i link amazon all'attrezzatura che io utilizzo trovate anche i link alla mia pagina facebook alla mia pagina instagram alla mia pagina flicker trovate anche l'indirizzo delle spedizioni se qualcuno vuole spedirmi qualcosa come nell'altro video vi ricordo che mi piacerebbe ricevere da voi dei messaggi sia audio sia scritti su cosa è per voi una fotografia o la fotografia in generale ok? quindi mi piacerebbe proprio fare una bella raccolta di tutti questi vostri messaggi e poi fare un video interattivo diciamo con voi dove sentiamo anche un po' la vostra di opinione visto che sono anni ormai che sentite la mia ci vediamo prossimamente saluti ciao 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 ciao